Noi della Banca del Tempo di Chieri abbiamo molte convenzioni e collaboriamo con molte associazioni. Nell'ambito di questa collaborazione abbiamo delle iniziative che riguardano anche i punti rete del Consorzio dei Servizi Sociossistenziali del Chierese. In particolare con uno di questi punti rete, un punto di urno, collaboriamo organizzando degli incontri e cuciniamo insieme, nel senso che con gli utenti del Consorzio prepariamo un piatto insieme e ci facciamo aiutare e i ragazzi che appartengono a questi punti rete collaborano alla realizzazione della ricetta e poi si mangia tutto insieme. È un'iniziativa che ha preso piede l'anno scorso e ha trovato molto gradimento sia da parte dei nostri soci che di volta in volta vanno a fare questa attività che da parte degli utenti del punto rete che sono persone che hanno bisogno di stare insieme agli altri e di fare delle attività concrete che possano dimostrare le loro capacità sia loro stessi che le loro famiglie.